Lo sapevi che? La Porsche è stata fondata nel 1931 da Ferdinand Porsche, che tra le molte cose ha anche progettato il famoso Kaffer, ovvero la Volkswagen Maggiolino. La prima auto Porsche è stata la Porsche 64, un prototipo che venne costruito nel 1939 con l'obiettivo di partecipare alla gara della Berlina-Roma, che però venne annullata a causa della Seconda Guerra Mondiale. La Porsche ha vinto la 24 ore di Le Mans 19 volte, più di qualsiasi altro costruttore nella storia della corsa. Il logo della Porsche, che rappresenta un cavallo rampante su uno sfondo giallo e nero, è ispirato allo stemma della città di Stoccarda, dove sede l'azienda. La prima Porsche 911 venne prodotta nel 1964 e da allora è diventata una delle auto sportive più icone al mondo. Nel 1986 Porsche ha introdotto la Porsche 959, considerata una delle auto più innovative e avanzate tecnologicamente della sua epoca. La Porsche ha prodotto anche veicoli fuoristrada, come la Porsche Cayenne e il Porsche Macan. Nel 2019 Porsche ha lanciato la Taycan, la sua prima auto completamente elettrica. La Porsche 911 RSR, che ha debuttato nel 2017, è la prima Porsche da corsa ad avere il motore montato in posizione centrale. La Porsche ha una lunga tradizione nella produzione di auto da rally e ha vinto il campionato del mondo rally tre volte negli anni 60.